si ora si, adesso si vai vai secondo me il tappolo deve essere chiuso all'inizio e poi brillo dopo se no già perdere la pressione si c'è un po' di cocola nei capelli secondo me qualcuno si è scolato troppo si è vista? che andava? io spero che si sia visto pronto o poi? già è un passo avanti rispetto a ieri ieri non andava? no ieri è stato morato in un parola di legione qualcuno si è cercato anche la mano no questo dovrebbe essere buono questo tira no non so di niente acqua e zucchero ma se il tappo sporco se no lo devi acqua e zucchero capito? saluta fiero del tuo operato mentos refresh maker oppure hellwes coca cola ancora se ne è un po' buona non fa più buona tutto il centro di mentos vediamo alle piante eh direi che conviene con le mentos si sciolga si sciolga si sciolga si sciolga si sciolga allora la prima si sono